in natale si avvicina neanche il tempo di darvi brawl pass premium che abbiamo questa nuova skin pin e immagini e profilo su Stu per voi durante brawl talk sono state annunciate un sacco di novità a grandi linee sono tre nuovi brawler, il gatto kit, l'herry e l'eury e infine bico che sarà disponibile per tutti il 14 dicembre nuovi overdrive di Leon, Fang, Edgar, Dynamike e Corvo la nuova modalità 5 vs 5 è disponibile nel fine settimana a rotazione tra raffagemme, food brawl e annientamento che avrà una mappa molto più grande le modifiche del brawl pass che inizierà il 4 gennaio sarà mensile e non sarà più acquistabile tramite le game non darà più un brawl prefissato ma una scelta di rarità epica o inferiore oppure crediti per sbloccare rarità superiori al completamento si richiederà uno star drop, una skin mensile i gettoni cambieranno nome e diventeranno punti esperienza ci sarà anche una nuova versione premium con la quale si richiederà doppio ricompensa ma torniamo alle skin, ne abbiamo 3 disposizioni da dare rispettivamente uno sui social uno ad un nostro abbonato qui o sulla piattaforma viola vale anche il prime e uno sul nostro discord cosa devi fare? seguir chi se non l'hai ancora fatto scrivere nei commenti cosa vorresti richiamare per Natale e salvarti questo video per discord lo trovi sui nostri profili e all'interno c'è una sezione dedicata se sei abbonato non devi fare nulla di particolare e ovviamente ti ringraziamo per il supporto oggi tra l'altro è l'ultimo giorno per potersi iscrivere al nostro torneo di discord per richiamere il Brawl Pass sabato 23 dicembre salvo complicazioni faremo una live dedicata insomma direi un dicembre ricco di regali e via via